C'è una rinnovata attenzione verso il sud. Come sosteneva il celebre statista Lucano Nitti, il pregiudizio nei confronti del mezzogiorno non è solo un difetto, ma una tradizione. E quanto ha affermato il presidente della regione, Vito De Filippo, nel corso di un incontro a Roma con l'incaricato presidente del Consiglio, Mario Monti, è una delegazione di ministri. In vista del vertice europeo previsto il prossimo 23 gennaio, De Filippo ha elogiato il premier Monti, che ha deciso di presentare ai vertici europei il dossier Il Mezzogiorno per l'Europa, un documento che in sostanza mette in risalto le buone pratiche messe in campo dalle regioni meridionali. Abbiamo scelto di proporre, come regione basilicata ha spiegato il governatore Lucano, lo strumento dei POIS che sta assicurando servizi in rete, soprattutto per le fasce deboli, in territori dove la scarsa densità demografica accresce i costi. È l'iter riguardante l'avvio delle sette aree programma che, sostituendo le 14 ex comunità montane, invece rappresentano un positivo esempio di contenimento della spesa pubblica. Il ministro alla questione territoriale Fabrizio Barca ha concluso L'Europa ha bisogno del sud e la settimana prossima presenteremo a Bruxelles quanto di buono potrà dare il mezzogiorno all'Europa.